Rinasce Piazzetta del Sole a Teramo, 1.100 metri quadrati di strade riqualificate con una tecnologia innovativa, unica in provincia, quella dell'asfalto stampato. Sembra una vera e propria pavimentazione, ma costa un terzo e l'effetto e la tenuta sono gli stessi. L'idea è stata dell'assessore comunale con Dele Galverde, Valdo di Bonaventura, che in considerazione dell'ottima riuscita del progetto di rifacimento stradale, prevede adesso di replicarlo anche in altre strade del centro storico della città. Abbiamo messo in campo questo tentativo di fare una cosa innovativa, sicuramente in provincia di Teramo non ne ho visto, ma non so in quante parti della Bursa è stato realizzato. Era un tentativo anche perché se veniva un buon risultato, immaginare che le vie del centro storico, non avendo possibilità economiche di fare pavimentazioni dappertutto perché i costi sono altissimi, fare questo tipo di pavimentazione, che tra l'altro è anche più sicuro dal punto di vista dello scivolamento e quant'altro, è venuto un buon risultato, devo dire apprezzabile, è piaciuto molto a tutti quelli che sono venuti qui a Piazzetta del Sole, quindi un buon risultato che speriamo di poter replicare nelle vie del centro storico, cioè invece di fare il solito asfalto andiamo a rifare questo tipo di pavimentazione che dà bellezza ai luoghi, tra l'altro questo può essere anche poi modificato anche il colore. Oltre all'asfalto stampato, Piazzetta del Sole però avrebbe bisogno di una riqualificazione maggiore, per esempio dei vecchi edifici pericolanti che la circondano. Se questi spazi fossero utilizzati per nuove attività commerciali, si eviterebbero i consueti assembramenti di giovani spacciatori e bevitori, soliti vandalizzare ogni cosa che li circonda. E adesso a Piazzetta del Sole cos'altro farete? Ma Piazzetta del Sole è un bel discorso, secondo me lo ritengo una delle piazze più belle di Teramo, veramente un angolo bello della nostra città, il problema è che qui non ci sono attività, ci sono questi fabbricati decadenti, quindi sarebbe auspicabile che questi fabbricati potessero riprendere vita e poi l'insediamento di qualche attività potrebbe rendere un luogo controllato, perché qui nonostante le telecamere, nonostante ci sia sotto controllo, di fatti c'è sempre un abbandono di rifiugi, sono assembramenti di giovani che poi non tengono cura e rispetto per questi luoghi.